Un giorno siamo da Poliform, lo stand è di circa 1.800 metri quadrati, uno degli stand più grandi della sera, è curatissimo. Siamo stati accolti dopo una lunga fila l'ingresso dalla responsabile degli allestimenti che ci ha spiegato un pochino tutte le malità. La tendenza come vedete in giro è di utilizzare i colori della terra, quindi c'è una predominanza di legni scuri come l'olmo nero, il marrone, in questo caso nella zona notte che è stata utilizzata in bocchette. Per esempio anche il letto che è un modello nuovo sempre proposto da Poliform è in un tessuto che ovviamente ripete i colori del marrone. Un'idea molto interessante che probabilmente costituirà una tendenza nel settore dell'arredamento e che è integrata e esportata dall'hotelleria è un sistema di low dining. Come vedete abbiamo un tavolo dedicato al transfer, ci si stanno sedendo questi operatori, che rispetto ai tavoli di altezza standard che sono da 75 cm è alto da 62 cm. Anche le sedie, o meglio le sedute, una seduta normalmente è alta 45 cm, in questo caso per adeguarla è di 40 cm. L'altezza complessiva della seduta è di 40 cm, in maniera molto più comoda e consumare una breve colazione o un pranzo. Ovviamente questo sistema proviene dal mondo dell'hotelleria perché spesso nelle spitte di alberghi o comunque di residenze dedicate all'ospitalità è preferibile anche per creare una sensazione nuova avere un sistema di pranzo, quindi un dining leggermente più confortabile. Ripeto, tenete d'occhio questa tendenza, low dining.